A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati e non invitiamoli. Sono queste le ultime dichiarazioni in ordine cronologico fatte dall'epidemiologo Pierluigi Lopalco. La puntata di questa settimana con Gabriele Sannino. Parliamo del Green Pass, Super Green Pass, vaccini, pandemia, lockdown e lockdown dei non vaccinati. Un'analisi ad ampio spettro questa settimana va in onda sul nostro sito ivdp.it. Trovate il link qui sotto in descrizione.